Sì, ho provato anch'io a usare Temu. Salve a tutti e benvenuti in questo video leggermente diverso da quello a cui siete abituati, anche perché di base non faccio molti unboxing. Se sono qui oggi a fare, appunto, un unboxing di quello che avete appena visto è perché ho avuto la possibilità di collaborare con Temu, società che ha dato la possibilità a molti influencer di fare unboxing e recensire i loro prodotti. Beh, che dire, ho avuto anch'io questa possibilità e non avendo mai fatto un acquisto da loro mi son detto, beh, perché no. Per chi non dovesse conoscere Temu, beh, che dire, è semplicemente una piattaforma di vendita online con tantissimi prodotti che spaziano da qualsiasi cosa, da oggetti per la casa, elettronica, chi più ne ha più ne metta. Avendo appunto avuto la possibilità di collaborare con loro mi sono riuscito anche a far dare un codice sconto di ben 100€ che potrete trovare sia in sovraimpressione che in descrizione con fra l'altro un link dove potrete trovare tutti i prodotti che ho acquistato con appunto degli altri sconti appositi. Devo dire che dal lato spedizioni mi sono trovato abbastanza bene visto che la roba è arrivata nel giro di una settimana e nulla di cui lamentarsi, sembra arrivato tutto intatto. Ovviamente c'è anche da dirvi che se qualcosa dovesse arrivarvi distrutta o che non funziona è disponibile la possibilità di fare un reso gratuito dentro 90 giorni, quindi diciamo che siete coperti anche da quel lato. Ma bando alle ciance è arrivato il momento di arrivare al vero punto focale del video, l'unboxing. Fra l'altro tutta la roba che arriva viene dentro questi sacchettini che sono anche abbastanza comodi, devo dire, quindi tanta roba per questa cosa. E cominciamo con il primo articolo che è una lampada mini e che funziona tramite touch. Devo dire che quella che avevo già non era nelle migliori condizioni, infatti mi era caduta e tipo si è distrutta diventando un pezzo d'arte moderna, quindi forse questa potrà sostituirla, chissà. Vediamo un po' cosa abbiamo qua dentro. La confezione sembra anche arrivata bene o male intatta, c'ha qualche piccola bollatura qui ma non si notano neanche. E abbiamo la scatola con un manuale di istruzioni abbastanza piccino che ti dice toccami per farla funzionare, chi l'avrebbe mai detto? E abbiamo anche un telecomandino per farla funzionare. Ovviamente si potranno anche scegliere i colori. Ok, attaccata la corrente è attaccata, vediamo adesso se funziona. Ok, non si vede tanto. Il suolo fa adesso, è illuminato di questo arancione. Non male, non male. Funziona anche con gli altri colori. Abbiamo il rosso, abbiamo il verde, abbiamo azzurro e tutti gli altri colori. Adesso si vede poco in camera, però giuro che il colore c'è. Dal vivo rende molto di più. Abbiamo anche altri tasti tipo flash, abbiamo bianco, abbiamo strobe e abbiamo anche il fade che appunto permette di cambiare i colori con una sfumatura in modo non così tutto di botto. Esatto, lo cambia molto così. Beh, premendola esattamente si cambia il colore perché è touch. Passando poi al secondo articolo abbiamo anche quest'altra cosa che ho preso che mi serviva più che altro per la mia postazione nello sfondo. E quindi che cos'è questa cosa? È semplicemente una lampada che ho preso che si può appiccicare sulle parti sopra, quindi sulle parti del mensolo eccetera, che come si vede è una lampada che va a riconoscimento del movimento. Quindi è una lampada che si accende e che dopo 8 secondi si spegne se non rileva movimento o luce. Tra l'altro anche con la scatola viene con questo piccolo oggetto qui che sostanzialmente si appiccica qua dietro dove tu gli vai a mettere questo e l'altra parte l'appiccichi sopra i soffitti ed è magnetico quindi si appiccica così e non bisogna usare colla, non bisogna usare viti, non bisogna usare niente. Ok, in video qua non sono riuscito a farla spegnere però ho fatto un altro test off camera dove tra l'altro ho anche registrato e si è spenta nel giro di 10 secondi senza rilevare movimento in stanze buie quindi direi che è perfetta magari da mettere, ecco si è spenta quindi manco a dire, manco a farla apposta, perfetto, perfetto. Terzo oggetto della giornata abbiamo questo piccolo astronauta che semplicemente servirebbe a funzionare come proiettore per fare la sua atmosfera nella stanza anche questo ovviamente con il suo telecomando apposito quindi direi che su questa cosa non manca mai la possibilità di controllarlo da remoto e il solito cavetto che sono tutti uguali devo dire, no, questo qua tra l'altro ha una presa diversa quindi non è USB-C eppure sono sempre tutti bianchi quindi wow, l'altro l'astronauta molto carino viene con la plastichina quindi astronauta scusami, oddio si è staccata la testa ok no si è staccata perché è magnetica, va bene, va bene e è rigirabile quindi mica male quindi allora tra l'altro c'è anche questo microfonino che è rigirabile ha dei tasti qua sullo zaino quindi un secondo fatemelo appiccicare alla corrente comodo, almeno il cavo qua è più lungo c'è da dire ok, messo qua dentro ok, attaccato è attaccato alla corrente vediamo se funziona il suo telecomando altrimenti funziona con l'altro tra l'altro pesa niente, posso dirvelo è tipo aria solida giustamente anch'io se non gli metto le batterie è un po' difficile che funziona ok, pile inserite se devo essere brutalmente sincero ho un po' una puzza di plastica bruciata non so se sia una cosa positiva e non si accende beh, signori, non so cosa dire cioè, sono stato qui ad aspettare qualche minuto e non si accende, quindi il primo articolo che mi tocca bocciare ha un odore un po' particolare posso essere sincero sembra tipo plastica bruciata e il fatto che anche attaccato alla corrente lui non parta perché qua c'è un tasto con scritto start lo prema e non fa niente mi fa pensare che sia arrivato rotto quindi beh piccolo aggiornamento perdonate il video completamente buio ma attaccandolo al computer anziché alla presa dalla corrente in realtà l'astronauta funziona e anzi fa addirittura un bel effetto sul soffitto quindi sono semplicemente stato io stupido a non attaccarlo prima al computer e provarlo solo sulla corrente fra l'altro provando i vari tasti qua che non si vedono mai nella vita ma si posso avvicinare qual computer ci sono premendo i vari tasti si possono scegliere le varie cose tipo i colori se ci sono le stelline oppure anche solo facendo questo effetto qua e devo dire che crea anche una bella atmosfera se devo essere sincero quindi ho detto una cavolata prima nel video e abbiamo un altro oggetto da unboxare che onestamente non so nemmeno io cosa sia perché la scatola è completamente di cartone non c'è packaging di nient'altro tipo quindi che cosa sarà? ooooh ah ok è una semplice striscia led molto utile perché c'ha anche questi oh tra l'altro che figata questo non lo sapevo ci fosse ed è una striscia led semplicemente che si può attaccare ovunque e niente sono dei semplicissimi led che quindi fanno luce si possono mettere dietro la televisione dietro il monitor dietro qualsiasi cosa e dicevo la cosa molto utile è che avviene con questi pezzi con questi pezzi qui semplicemente tu puoi attaccarli agli angoli della televisione onde evitare di fare tipo quelle onde bruttissime schifose che possono rovinare magari la vista da dietro tra l'altro c'è anche un manuale di istruzioni molto basilare andiamo a vedere velocemente se funziona anche qua e poi passiamo al prossimo ok striscia attaccata facciamo un veloce test prima di srollarla da qualche parte vediamo on off ok ok signori si ho fatto un piccolo problema l'ho attaccata al computer anziché alla presa della corrente e anche qui si vede davvero poco non so neanche come faccio ok ho provato ad abbassare un minimo le impostazioni della telecamera con cui sto registrando infatti le mani non si vedono neanche però potete vedere che funziona e fa anche delle animazioni parecchio fighe abbiamo anche altri tasti appunto abbiamo color quindi possiamo scegliere effettivamente un colore singolo poi abbiamo mode quindi possiamo fare le varie modalità che si possono cambiare quei colori tipo anche questa qui si può controllare anche da remoto quindi anche questo mica male per quello che costa abbiamo poi un altro prodotto che mi è stato mandato che è questa placca metallica che è quello che è alla fine non è che posso giudicare molto se funziona o no è una placca metallica l'immagine è quello che l'è e il metallo invece è un po' storto devo dire che si piega molto facilmente ma davvero tanto facilmente sembra un po' il materiale delle lattine e anche qui qualità della stampa potevano fare di meglio però personalmente non mi fa impazzire questa se devo essere sincero questo voglio dire va in base al gusto soggettivo ovviamente non è che posso giudicare tanto è una placca metallica è davvero storto mi è pure arrivato nel pacchetto che fuoriusciva non fatico a immaginare come si sia rotta più che altro come si sia piegata abbiamo poi un altro prodotto simile all'altro che vi ho fatto vedere prima e questi sono dei dischi luminosi che come quell'altro di prima si vanno a mettere sulle mensole oppure sulle altre cose e si illuminano semplicemente abbiamo tra l'altro qui una striscia che andando a rimuoverla si appiccicano sempre sopra le mensole e come gli altri fanno della luce semplicemente premendoli ovviamente questi vanno a batterie quindi è per questo che non si è accesa si possono benissimo svitare così così si avvita così si svita e togliendo si usano le batterie tranquillamente adesso vado a prendere altre batterie per vedere se anche questo funziona ok pile inserite sono tre di tipo AAA e quindi semplicemente immagino che andando a toccare facciano la loro luce e anche queste funzionano fanno anche una discreta luce cioè davvero sono abbastanza potenti non so come faccio a farvelo vedere cioè vabbè che comunque usano tre batterie di tipo AAA però devo dire che fanno una luce parecchio interessante e queste a differenza soprattutto dell'altra non vanno a rilevatore di movimento ma hanno il tasto che premendo si accende è di un tipo completamente diverso dall'altro l'altro si ricarica forse anche meglio perché appunto la batteria è paradossalmente infinita senza dover comprare ogni volta tre batterie di tipo AAA però funzionano questo è l'importante tra l'altro ne ho prese sei e che vuol dire diciotto batterie di tipo AAA ma comunque questo lo potevo immaginare quindi devo dire che comunque sono abbastanza soddisfatto della luce che hanno fatto ripeto il prezzo che hanno tra l'altro non è male va bene che alla fine hanno uno scopo parecchio semplice cioè far luce è difficile che non funzionino però ho cercato di scegliere oggetti che appunto potessero funzionare bene o male nella maggior parte dei casi e qua direi che posso definirmi soddisfatto perché appunto funziona abbiamo poi un altro prodotto che difficilmente non funziona perché è un peluche è semplicemente un peluche ed è di un capibara per quanto meme possa essere era caruccio quindi ho detto ma perché no vediamo com'è il capibara e di tessuto non è neanche male pensavo onestamente peggio perché ripeto guardando il costo che ha pensavo che la qualità dei materiali fosse peggiore però è anche abbastanza morbido è molto leggero è grande il giusto tra l'altro c'ha anche una tartaruga con uno zainetto a forma di guscio non so se qua sia fatto apposta che sia aperto quindi che si possa magari mettere qualcosa dentro io non ne ho idea anche se un po' ne dubito però è un capibara è un peluche come fa a non funzionare vi faccio vedere anche quanto è grande tipo grande poco più dalla mia testa se volete comprarlo per regalare a qualcuno un peluche di un capibara beh eccolo qua cosa abbiamo poi abbiamo adesso un'altra lampada che mi è arrivata con un packaging già mezzo aperto penso questo perché si sia aperto durante la spedizione ma è una lampada se non erro di tipo neon con la scritta esatto good vibes aspettate che adesso ve lo giro ecco qua anche questa si attacca all'usb e non è che c'è molto da dire è una lampada vediamo se anche questo funziona ma onestamente ripeto è un po' difficile che non funzioni sono lampade hanno un solo scopo onestamente dubito che non funzioni ok l'ho connesso ha fatto una breve luminescenza si è acceso brevemente vediamo un attimo avevo attaccato male avevo attaccato male avevo attaccato male l'usb alla corrente non chiedetemi come sia possibile però funziona è blu potete vedere anche dalla telecamera qua che è luce blu funziona dipende anche qui qui è puramente soggettivo se vi piacciono delle lampade così questa la trovate anche a un prezzo relativamente basso qua c'è anche il buco per appiccicarla al muro e che altro c'è da dire al telecomando lo accendete lo potete spegnere vedete un po' voi se è il vostro genere di prendere lampade così non è neanche una brutta cosa andiamo avanti con un altro pacchetto che non ho idea di cosa ci sia dentro perché anche questo è completamente di cartone quindi abbiamo ancora l'effetto sorpresa ed è ah ok questo qua è molto semplice ma ho voluto prenderlo perché mi ispirava davvero tanto voi vi chiederete ma che cos'è e cos'è questa roba e beh semplicemente è un esponi libri va incastrato qui semplicemente lo piazzate sulla vostra libreria lo piazzate da qualsiasi parte ecco fatto ne ho approfittato per far vedere l'edizione deluxe di 20th century boys e come potete vedere ci sta perfetto tra l'altro è di un'inclinazione giusta e mi sembra anche stabile onestamente questo promosso a pieni voti abbiamo poi uno dei pezzi forti dell'unboxing delle cuffie ma non sono delle semplici cuffie no potevo mai forse risparmiarmi da fare la gamer girl anche se il packaging qua è arrivato devo dire già mezzo distrutto abbiamo anche il cavo perché giustamente funzionano tramite cavo aux abbiamo il manuale di istruzioni e andiamo a testarle onestamente queste sono cuffie quindi vediamo innanzitutto se funzionano sono piegate eccole qua guarda che bello sono un po' plasticose hanno un feeling un po' cheap però per quello che costano me l'aspettavo onestamente sarà che magari sono un po' fuori target io però non mi coprono neanche tutte le orecchie sarà che ho il testone c'ho un piccolo pezzo di orecchio qua che mi sta fuoriuscendo ok le utilizzate un po' per qualche minuto per ascoltare della musica ovviamente devo dirvi che non è che ci si può aspettare roba perfetta o da comparare con un top di gamma giustamente per quello che costano e loro lo fanno la musica si sente non benissimissimissimo però ripeto per quello che costano la seconda cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che appunto sono anche wireless perché uno c'hanno qui l'attacco e c'hanno anche i tasti qua sui padiglioni abbiamo poi un pezzo abbastanza grande questa volta e questa è indovinate un po' un'altra lampada perché a me piacciono le lampade chi l'avrebbe mai detto e è una lampada che si attacca all'angolo delle pareti anche qua solito manuale di istruzioni su come si monta ecco fatto tra l'altro viene anche con le viti con un bel po' di roba devo dire ok fatemela montare in fretta ok ci ho messo tipo 10 minuti per montarla forse anche un poco di più però il risultato è qua ok ci siamo ho attaccato la barra e adesso con il telecomando facciamo il test funzionerà non funzionerà mi sono preso un attimo male perché avevo premuto male il telecomandino però funziona abbiamo anche i vari cicli come i soliti telecomandi abbiamo la luce rossa abbiamo la luce verde la luce blu tra l'altro si può anche scegliere l'intensità abbiamo anche appunto la solita roba che va con la musica che va in automatico e quindi ti crea questi pattern così luminosi e la cosa bella appunto è che si può anche connettere all'applicazione quindi potete scegliere voi la luce che volete dargli rimangono sempre meno prodotti in questo caso abbiamo un'altra di quelle lampade dovrebbe andare a effusione tipo con la sorta di aromaterapia non so se l'avete presente dove andate a mettere i liquidi dentro e questi vengono un attimo sparati nell'aria e dovrebbe far bene questo si apre non so se sia normale immagino di sì sì si apre il solito cavo da attaccare come al solito questo però ci va messo l'acqua quindi se lo provo lo proverò lontano dal computer perché un po' di paura ce l'avrei a farlo vicino al computer però funziona anche questo ha fatto la luce quindi se io premo qua funziona fa luce però non fa nient'altro ok provo adesso a vedere se funziona con l'acqua dentro e devo dire che anche questo funziona l'odore che esce è un po' di plastica devo ammettere ma immagino perché sia di nuovo di fabbrica quindi mettendoli dentro lo spray apposito dovrebbe uscire il profumo predefinito quindi anche questo direi tanta roba funziona fa anche un bel effetto quindi meglio di così ok signori ci rimangono due prodotti il primo è questo che sono un set di tasti personalizzabili per la tastiera posso benissimo andare qui sulla mia tastiera andiamo a togliere ad esempio il tasto ESC e possiamo sostituirlo con questo qui ad esempio che è bello caruccio possiamo anche togliere la barra spaziatrice volendo e la sostituiamo con questa qui questo abbiamo shift che possiamo mettere benissimo qui direi che non è nemmeno una bruttissima cosa ovviamente questo andava fatto per un altro tasto che purtroppo la mia tastiera non supporta perché non ha un tasto verticale però oh ci si può anche organizzare non fa nemmeno un brutto effetto vi dirò e signori mi sono tenuto l'ultimo pezzo per il meglio perché beh sapete tutti che la mia serie preferita è le bizzarre avventure di Jojo bene ecco guardate un po' cosa sono riuscito a prendermi yes la cravatta di Yoshikage Kira cosa volevo di più io non so cosa dire è perfetta va bene questo era effettivamente una delle cose che aspettavo e posso dire che sono soddisfatto andiamo a vedere adesso com'è guardate qua è bellissima è bellissima tra l'altro non posso mettermela al collo perché non sono capace di farmi il nodo alla cravatta visto che non le ho mai messe però guardate un po' anche solo da esposizione o se volete prenderla per fare cosplay di Yoshikage Kira è perfetta io non so davvero cosa dire questa è promossa pieni voti davvero e con la cravatta è tutto effettivamente abbiamo unboxato tutto quello che mi era arrivato tiriamo un attimo le conclusioni veloci avevo delle aspettative più basse soprattutto per il costo che avevano questi oggetti però per la maggior parte posso dire che non è neanche troppo male loro lo fanno quindi per quello che costano non mi sento neanche di lamentarmi se devo essere sincero quindi ho esperienza direi promossa ripeto che in descrizione trovate il link per avere un buono sconto di 100 euro con tutti gli oggetti che avete visto durante quest'unboxing altrimenti avrete sempre in descrizione un link che vi ridirezionerà sempre sul sito di Temu dove appunto potrete usufruire dello sconto che vi ho detto bene signori detto questo è tempo di impararsi a fare un nodo alla cravatta per poter sfoggiare questo incredibile pezzo d'arte e direi che noi ci rivediamo a un prossimo video come al solito se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace e noi ci rivediamo alla prossima ciao a tutti e noi ci rivediamo